zio hack del 1998 il numero uno del miglioramento personale underground buongiorno a tutti rieccoci qui per un'altra puntata di a cast con il nostro zio h il numero uno del miglioramento personale underground italiano insieme il nostro manolo e me giovanni come sempre allora oggi parliamo di una tematica abbastanza calda spinosa e molto molto attuale ovvero tutto quello che è il mondo delle cosiddette truffe o comunque chiamiamoli business poco raccomandabili per essere più più gentili che negli ultimi negli ultimi tempi soprattutto in quest'ultimo anno e mezzo due di pandemia hanno spopolato su su internet e di cui tutti voi sicuramente avrete visto almeno qualche sponsorizzata su sui social di gente che vi offre ciao questo il mio conto corrente o 622 mila dollari intanto minchia hai un conto in dollari lo sa il fisco lo sai cosa significa per la fiscalità italiana avere un conto estero oppure non è tuo il conto è una schermata ad minchia due due sono i casi ok vai vai sono un paio di zeri aggiunti con photoshop sì li fanno anche in movimento eh sono sofisticati ma il punto è dovunque vedete qualcosa che luccica troppo dovrebbe già suonarvi un campanello d'allarme questi posti sfarzosi questi no ambienti questo persona che è molto molto meglio di voi ma che cazzo è poi lo sentite parlare ah io sono venture capital angel investor trading ecco poi parliamo del trading sul settore comunque il primo passo bisogna capire qual è la differenza tra una speculazione e un investimento l'investimento hai non esiste nulla di sicuro al cento per cento però hai una bassissima probabilità di perdere il capitale messo la speculazione è più a rischio ma spesso rende di più ci sono oggi speculazioni legittime investimenti legittimi che portano a bei soldi ma il punto qua tu dice nel podcast precedente andatevelo a sentire quelli in cui parlavamo dell'arte dire di no eh quali sono i campanelli di allarme allora ragazzi ce n'è uno molto semplice che funziona per tutte le truffe è quando tu mandi dei soldi con un sistema non recuperabile quindi non con paypal non con le carte che comunque puoi tornare ma anche lì dipende dove li mandi comunque con i diciamo i sistemi tradizionali proteggono paypal comunque protegge il cliente però con sistemi dubbi trasferimenti di cripto ad esempio sono attenzione sono a favore delle criptovalute del sistema di finanza decentralizzata molto a favore infatti quello secondo me è una speculazione investimento che dovreste indagare ma da persone competenti però quando uno manda soldi a degli sconosciuti c'è qualcosa che non va è la regola numero uno delle delle truffe se arriva qualcuno per strada e ti avvicina e ti chiede le chiavi della macchina non il cellulare non glielo dare ma se tu hai un'emergenza vai fuori da un bar e dai le chiavi a tua macchina qualcuno gli guarda devo aiutare mio figlio scusa devo andare c'è una buona probabilità cioè se tu vai da loro eh di solito è sicura la cosa il problema è che con oggi con il marketing come dicevi tu con queste sponsorizzate eh assurde quindici mila italiani quest'anno hanno investito e non si sa neanche chi è se è legittimo questa persona eh c'è una marea di sconosciuti che si presentano meglio di come sono che ve la contano su che fanno i soldi insegnandovi a fare soldi con questi corsi costosissimi eh che che uno ma eh la frase è una frase allarme quando la sentite io vi invito a picchiare picchiare questa persona e eh metti il mutuo sulla casa perché devi fare assolutamente questo corso io sono uno studente della formazione da metti facciamo dopo 75 facciamo 86 professionista e non esiste un corso che valga che tu metta ti invada a indebitare punto uno poi trading trading l'ho già detto vuol dire battere il mercato il mercato oggi è molto sofisticato quindi il trading è una professione bisogna studiare tanto per farla diventare una professione è un lavoro e quindi non lasciate perdere tutti quei canali che la fanno facile oggi il mercato è sofisticatissimo è garantito che perderete i soldi perché il mercato eh derivate azionale si nutre di tutti quelli sotto che perdono soldi che non sono investitori sofisticati eh ci sono invece settori diversi in continua crescita dove tu puoi comprare lasciarli o h o d l h o sarebbe old tieni hold on to dear life eh tienili perché nel tempo è evidente che quel mercato è cresciuto esponenzialmente perché è un mercato tecnologico questi che sto dicendo non sono consigli finanziari sono uno che cerca di parlare delle persone come amici per evitare che lo prendano il culo ecco eh però se vi piace ci mancherebbe alla fine quello che tutto quello che è molto popolare dovete stare attenti dove vedete le grandi masse perché ricordatevi la legge del potere che posso riassumere anche in varie forme c'è anche un corollario che la merda piace tante mosche e insomma ce ne sono in giro a a miliardi per cui ehm parole forti però ragazzi sono settori in cui la gente si rovina la vita e quindi state campanello d'allarme state attenti a dove mandate i soldi cioè li mandate a una piattaforma lo sapete dov'è quella piattaforma che a singapore lo sapete che quella piattaforma che quella piattaforma potrebbe domani decidere che voi non siete un utente legittimo e togliervi i vostri soldi la manda li mandate a Malta ci sono tante tante cose da sapere e molte ve le dovete far dire dal vostro commercialista dovete avere un bravo commercialista che vi vi guiderà in queste cose quindi eh corsi milionario far soldi facili le mazzette stampate che poi uno le usa nei profili instagram tutte queste cose alla tie love sgran cardone tutto quello stile americano di guarda come sono ricco e bello sono sul mio jet privato mentre eh vabbè mi mi fermo con le metafole perché poi divento schifoso come avrete capito dalle mosche allora queste cose schifose rispondo in modo schifoso questa sui soldi facili secondo me è uno di quei campanelli d'allarme che vanno sempre presi in considerazione anche perché eh è vero che esistono al mondo i filantropi però generalmente qualcuno che chiede dei soldi per insegnarti a diventare schifosamente ricco la ovvia domanda è ma quegli stessi soldi che chiedi a me come mai non li hai investiti tu per diventare ancora più schifosamente ricco perché sì sì abbiamo chiaro generalmente chi è schifosamente ricco passa la sua vita a diventare che è ancora più schifosamente ricco se ne ha le capacità e questo è sicuramente uno di quei campanelli che eh dovrebbero suonare se hai l'algoritmo di trading segreto sull'edging del 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 coso è è vero che gli esseri umani condividono eh quindi sono diverse proprio da ma non è vero anche gli animali o alcuni animali lo fanno però insomma eh una delle caratteristiche sì ci piace condividere le cose che funzionano però capisci che quando li va a condividere un conto è farlo gratuitamente un conto è farlo con un prezzo proporzionato un conto è dire ah se mi dai ventimila euro o tremila o cinquemila euro ti svelo il corso segreto ninja che ti farà fare i soldi con gli immobili come non mai e poi mandi questi soldi a questi sconosciuti e vanno e vanno a finire così quindi è il concetto è sempre il campanello all'arma è sempre quello mandare soldi sconosciuti perché poi c'è un'altra categoria di truffe eh oggi sempre più quelle sentimentali sessuali di solito donne che approcciano uomini eh state attenti per favore a uomini donne che siate a non mostrare viso e genitali insieme in in camera perché vi registrano e vi ricattano a meno che non siete porno attore allora non ve ne frega niente eh oppure potete sempre dire che ehm è un deep fake quindi se mi trappela uno dei miei sex tape dirò che è un deep fake oramai è la scusa ufficiale però state attenti a quello non fatevi ricattare eh non è non sono veri quei messaggi che vi arrivano in cui ah ti ho beccato a farti le pippe online di solito arrivano in inglese quindi per adesso in Italia ci saliamo ti ho beccato dalla telecamera a farvi le pippe online adesso o mi mandi tot bitcoin o qualcosa ma magari anche no anche perché chi se fosse vero chi garantisce che quella persona non lo mandi comunque non abbia cosa eccetera poi c'è tutto il discorso del psicosette in cui abbiamo fatto un'altra puntata del podcast andatela a sentire però state attenti in generale a dovunque ci sia un culto della persona state attenti a quei corsi in cui la prova d'esame è correre una maratona primo perché non tutti la possono correre secondo ovvero tutti la possono correre se si vogliono spaccare le ginocchia le anche cose e secondo non è oggi con la scienza di oggi il margine di qualità del fitness la misura di qualità del fitness non è solo quantomeno correre una maratona ce ne sono altri di cose però è stato un'altra cosa che spesso questo tipo di truffe o ribadisco o business poco raccomandabili hanno in comune che sui loro profili social sembrano molto spesso uno spot dell'ente del turismo degli emirati arabi sì 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 mi è venuto in mente un altro settore truffa che sono i corsi quelli che iniziato i corsi di seduzione quello è un altro settore che va a predare come quello di prima delle donne no che online avvicinano mandami dei soldi ti mando le foto cioè un conto se ti abboni al profilo only fan vabbè però devi anche renderti conto che hai quella debolezza come uomo e probabilmente un bel aiutino specialistico lì potrebbe servirti idem alcune persone un aiutino che richiede più di un intervento deve essere molto specialistico e quindi parliamo di di qualche forma di psicoterapia strategica breve ma comunque qualcosa di importante perché se ti presti a sfruttamento monetario è il coso ti invece stavi parlando di di quel genere di corsi me lo ridici che mi sono un po' perso no stavo dicendo che spesso e volentieri in questo in chi propone questo tipo di investimenti molto molto facili speculativi c'è un un filo conduttore che è la preponderanza di foto di dubai come come emblema del paradiso fiscale del della ricchezza del del benessere e ci sono milionari legittimi e ci sono milionari e ti dirò anche una cosa molti milionari legittimi per quello che abbiamo detto prima di insegnare a far soldi con facendo così e molte di queste persone sono davvero dei milionari perché li conosco cioè sono milionari legittimi già hanno hanno milioni di euro cash e stanno davvero a dubai e non sto dicendo che non ci siano sto esprimendo qualche dubbio su come li abbiano fatti però eh oppure oppure a londra diciamo londra inghilterra per quelli ma con la prexit ormai londra più come una volta dubai top perché siamo a tassazione zero ma per carità ma ripeto li hanno fatti ma ciò non toglie cioè una cosa non nega l'altra cioè il fatto che loro siano lì e li abbiano davvero i milioni non significa che non sia una truffa per te perché tu quei milioni non li farai mai non li farai mai è il buon vecchio principio dello schema ponzi eh sì è l'aeroplano io quella lezione l'ho imparata in quinta liceo con l'aeroplano cos'era l'aeroplano no eh l'aeroplano era eh siamo andati a milano in macchina noi va bene l'esperienza eh ci ho smenato duecentocinquanta mila lire sono antico c'erano ancora lire eh l'abbiamo messo in quattro della classe siamo andati a milano a questa riunione c'erano questi cartelloni come funziona il sistema eh sopra c'era uno in cima prendeva mille euro dagli otto sotto il suo aeroplano volava via e si dividevano in eh appunto in quegli aeroplani diventavano i i due sotto di lui avevano i loro aeroplani e così via quindi alla base ce ne erano otto poi sopra quattro due uno no e lì basta basta un minimo della matematica che ci avevano già insegnato al liceo della crescita esponenziale per vedere che eh rapidamente ci voleva un fracasso di persone superiore all'Italia perché potessero eh volar via insomma solo i primi che entravano se ne andavano con i loro otto milioni tutti gli altri la finale era quelli inchiappettati sotto e quella è la base degli schemi piramidali che una volta erano anche di tanti multilevel io dico vabbè se non avete mai fatto un'esperienza di un multilevel nella vendita fatela cercate di farla da giovani cercate di farla con pochi soldi perché imparerete tante cose come vi presentano come a volte inchiappettano su come andate a vedere una di queste conferenze vabbè io c'è anche io ce l'ho anche perché io ho scoperto che tra i miei amici c'era il presidente europeo di questa organizzazione e poi quando l'ha portato in Italia quella in Italia una delle più grosse vendeva filtri d'arco cose sono ancora in giro vendono in multilevel per carità anche legittimamente però quando vedi quelle presentazioni poi sono state a quelle famoso di quella famosa rivista che mi ha anche pubblicato peraltro eh grazie all'articolo di Mario Furlano quando iniziavano i corsi di formazione sono andato a vedermi Virgilio di Giovanni ricordi quando ha lanciato il webbili la tv eh la tastiera con la tv collegata che doveva fare soldi a tutti cioè doveva fare no soldi scusa doveva eh innovare internet poi non ha preso in realtà oggi ce l'abbiamo tutti in un altro modo però forse era un po' in anticipo per i suoi tempi ecco ehm per carità però uno deve deve avere quelle esperienze perché così sa com'è quel modello all'americana che poi viene riproposto in certi corsi di PNL di formazione tutti che saltano chi non salta è un coglione ecco tutte le volte che c'è quelle dinamiche di massa di gruppo ne abbiamo già parlato sono psicosete ecco quindi attenzione campanella l'album uno solo a chi mandi soldi è una persona conosciuta è una persona sconosciuta per cosa li mandi hai avuto quello eh otterrai quello che vuoi stai inseguendo un sogno ti stai ludendo da solo è purtroppo senti che frase profonda non è la mia di un mio mentore le persone che vivono nella menzogna credono facilmente alla menzogna minchie con questo finalone profondo così eh cercate di la verità cercate la vostra verità cercate di approfondire le cose non investite mai in qualcosa che non capite e e ricordatevi che si può capire anche spendendo poco comprando dei libri eh leggetevi tre quattro cinque libri quell'argomento avete avete capito attenzione che spesso i libri sono l'inizio di un funnel che vi porta poi a comprare il videocorso l'audiocorso che poi vi porta a comprare il corso base da 3.000 che poi vi porta al corto estra da 20.000 in cui c'è il super esperto americano state attenti a questi modelli state attenti che testimonial oggi con la fame di di soldi e popolarità che c'è si comprano tanto al chilo quindi non vi fate impressionare troppo dai ricchi e dai famosi cercate di diventare voi ricchi e famosi e vorrei dire anche che eh l'ho segnalato ma non come consiglio finanziario come mia esperienza personale oggi ci sono dei sistemi legittimi validi eh onesti innovativi se uno capisce dove va un po' il futuro per moltiplicare i propri investimenti eh semplicemente eh insomma guardatevi un pochino le criptovalute cercate di capirle cercate dove vanno ovviamente è una cosa a rischio però è anche una cosa che eh permette legittimamente eh di fare eh in qualche anno ha fatto fare in tre anni non so il duemila tremila per cento senza bisogno di nessuno senza bisogno di corsi strani c'è dovuto studiare tutto gratis online sui canali youtube dovete trovare gente che non vi vende niente state attenti a non dare i soldi sconosciuti che non vi vende niente di quel settore che non stia facendo un pump and dump non andate su cose strane soprattutto all'inizio andate su ogni market cap vedete quali sono le principali più alte cercate di capirle e partite da lì insomma è chiaramente eh ricordatevi un'altra regola degli investimenti speculazioni sempre mettere quello che si può mettere senza che vi scenda una lacrima se lo perdete perfetto direi che con questa massima possiamo possiamo salutarci eh grazie a tutti e ci rivediamo alla prossima puntata ciao a tutti e ricordatevi non fatevi filmare con i genitali fuori e questa mettiamo questa anche questa massima ciao a tutti grazie per aver ascoltato fino qui se ti interessano gli argomenti del miglioramento personale scientificamente basato life hacking bio hacking integratori benessere psicologico apprendimento neuroscienze e transpersonalità segui lo zio hack in ogni suo canale digitale ciascuno con contenuti gratuiti e unici in particolare su telegram trovi molti audio esclusivi cerca queste quattro lettere senza spazi zio con h di hotel su telegram visita il suo sito migliorati.org per trovare tutti i suoi social e il ricco blog hacknews.net